Vescovo tra i Vescovi, il Papa apre lunedì nell'Aula del Sinodo in un clima di grande fraternità e amicizia la settantesima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana che tra le altre cose ha avuto il compito quest'anno di individuare una terna di candidati alla successione del Presidente uscente, il Cardinale Angelo Bagnasco, da sottoporre al Pontefice. La scelta di Francesco, una volta ricevuti i nomi, è caduta sulla Cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve, che proprio dalle sue mani ha ricevuto la berretta rossa il 22 febbraio del 2014. La preghiera insieme, la lettura del Vangelo e il canto della Veni Creator Spiritus, poi è Bagnasco all'inizio dei lavori ad illustrare al Papa le sfide pastorali che attendono la CEI, soffermandosi sulla necessità di ascoltare con sollecitudine la voce dei giovani e rispondere così alle loro aspettative e domande crescenti. Le loro condizioni di vita, la loro capacità di stare insieme e il loro desiderio di costruire il domani ci interpellano e chiamano in causa la nostra responsabilità educativa e testimoniale. L'incontro con loro ci aiuta a riscoprire ogni giorno il primato di Dio nella nostra vita per pensare e agire in quella libertà che nasce dalla verità. Un tema caro al Papa che più volte ha manifestato la volontà di rimettere i giovani al centro della Chiesa e della società, restituendo loro il futuro dal quale spesso vengono esclusi. Il segretario della CEI, Monsignor Annunzio Galantino. Evidentemente ora c'è la spinta immediata e il riferimento al sinodo dei giovani, un sinodo che è il sinodo dei Vescovi, ma che devono essere lasciarsi interpellare da quella che è la situazione giovanile di oggi, una situazione che per certi versi cerca un po' di, purtroppo, cerca di appiccicare sui giovani l'etichetta di uno scarto, perché non vengono tenuti in considerazione fino in fondo, ma dall'altra è un richiamo a vedere veramente dei giovani coloro i quali possono dare un colpo d'ala, un colpo di mano positivo alla nostra politica, alla nostra economia e anche alla nostra vita di ogni giorno. Francesco sostiene questo impegno e accoglie l'intenzione, espressa dal Cardinale Bagnasco, di non accedere a frustrazioni e lamentelle in questa stagione così complessa e piena di contraddizioni, piuttosto il voler continuare a servire i fratelli con umiltà e generosità. Camminate insieme e siate servi della vita in questo tempo ferito, scrive il Papa nella discorso consegnato ai vescovi e ai giornalisti, mentre all'assemblea riunita concede quasi tre ore di confronto e dialogo riservati. Ancora Monsignor Galantino. Al centro ci sono state un po', io dico, da una parte anche le preoccupazioni, le preoccupazioni concrete che riguardano i vescovi, che riguarda qualsiasi vescovo, quindi il rapporto con il territorio, la risonanza o anche la mancata risonanza dell'annunzio cristiano, i rapporti, le relazioni, relazioni tra noi vescovi, relazioni con i sacerdoti, relazioni anche con la gente, con la gente che è poi al destinatario principale del nostro impegno. Evidentemente su questi tipi di, diciamo, di temi che poi sono date anche le prospettive verso le quali muoversi. Se dovessi dire con quali attese si è chiuso un po' il nostro incontro, sicuramente l'attesa di vedere una Chiesa italiana sempre più impegnata, sempre più, diciamo, che si lascia sempre di più interpellare dalle fatiche ma anche dalle belle speranze che questa nostra Italia propone, vive. Respiro e passo sinodale, comunione e dinamismo per contrastare chiusure, resistenze e infedeltà personali che Francesco definisce una minaccia ben peggiore di quella che proviene dal mondo con le sue persecuzioni. Ancora, obbedienza e carità, docilità allo spirito, rifiuto della mondanità, delle logiche di potere e successo, del compromesso e dell'ambiguità. Sono i mattoni su cui il Papa invita i vescovi italiani a costruire con lui una Chiesa rinnovata. Pilastro, però, resta l'attenzione ai deboli, ai fratelli umiliati. Fate in modo che nessuno, esorta Francesco, si senta invisibile ai vostri occhi. Galantino. Questo è un po' il leitmotiv, è un po' il tema ricorrente che il Santo Padre ci sta consegnando con il suo esempio prima di tutto e poi con la sua parola. Un leitmotiv, un tema ricorrente che poi è il tema ricorrente del Vangelo. Quindi il Papa ci sta riconsegnando in maniera, ripeto, io direi ossessivamente affettuosa, ci sta riconsegnando al Vangelo e ci sta riconsegnando il Vangelo. Oltre a richiamare i vescovi sulle strade da percorrere insieme, Francesco non manca di ringraziare il Cardinale Bagnasco per il suo impegno fedele e umile alla guida della CEI e si dice certo che la nomina del suo successore, il Cardinale Bassetti, possa essere un nuovo segno d'amore in un momento delicato e di transizione della Chiesa e del Paese. Vorrei ringraziare lui questi dieci anni di servizio nella Presidenza e anche ringraziare la pazienza che ha avuto con me, perché non è facile lavorare con questo Papa e lui ha avuto tanta pazienza, la ringrazio tanto.